Bisognerà attendere domani per scoprire se si disputerà la gara valevole per la 27esima giornata del campionato cadetto tra Pescara e Juve Stabia in programma allo stadio adriatico Cornacchia sabato 11 febbraio alle ore 15. Proprio ieri il sindaco di Pescara Luigi Albore Mascia ha emesso un'ordinanza di chiusura dello stadio di proprietà del comune a causa delle nevicate dei giorni scorsi per salvaguardare l'incolumità di cittadini, tifosi e giocatori. L'ordinanza però potrebbe rientrare nel caso in cui le condizioni meteo dovessero migliorare. Ad ogni modo prefetto e Lega potrebbero decidere di far disputare la gara a porte chiuse, eventualità questa che non piace per niente al presidente del Delfino Daniele Sebastiani che di fronte ad una gara senza pubblico preferirebbe non si giocasse affatto. I dubbi potrebbero essere sciolti domani mattina dopo l'incontro convocato in prefettura a Pescara al quale prenderanno parte anche sindaco e società biancazzurra, ma a decidere saranno comunque i prossimi bollettini meteo. Di sicuro c'è l'arrivo della squadra avversaria, la Juve Sabia, giocatori e dirigenza saranno in città venerdì mattina. E nonostante le polemiche, i biancazzurri di Zeman continuano ad allenarsi al poggio degli ulivi con Insigne e Nilsen a mezzo servizio.